William Gessomino fa parte del direttivo di questo Neonato Club, intanto come si chiama, dov'è il vostro quartiere generale e da dove nasce questa grande passione verso il Delfino? Il nostro club nasce fondamentalmente sui gradoni dello stadio, dai distinti dove tutti noi vediamo le partite. Il nostro quartiere generale adesso è i distinti, diciamo. Noi nasciamo fondamentalmente l'anno scorso, poco prima dei play-off, quindi già dalle trasferte comunque Frosinone, insomma nefasta, Avellino. Poi abbiamo avuto la scia positiva dei play-off dove abbiamo avuto un grandissimo seguito, tantissime persone ci hanno scelto. In tutti i play-off abbiamo portato con noi circa 400 persone, insomma in totale. Ci siamo divertiti, abbiamo fatto delle belle serate e abbiamo detto perché non organizziamo una bella serata conviviale con tutti, con i giocatori, con la dirigenza, con tutti gli amici che ci hanno seguito. E quindi siamo arrivati, insomma, questa serata che sta andando piuttosto bene, insomma, vedo volti felici anche tra i giocatori che si stanno integrando con noi, ecco. Si chiama Quelli del Delfino? Sì, sì, Quelli del Delfino è il nostro nome. Come dicevo appunto, ci potete vedere con la pezza, come viene nominata, sui distinti. Sì, venerdì tutti all'Adriatico-Cornacchia per Pesca-Ravellino. Venerdì all'Adriatico per Pesca-Ravellino e venerdì successivo a Cesena, stiamo organizzando già la trasferta perché non ci fermiamo mai, in parallelo organizziamo festa, trasferta, insomma tutto insieme.